Quarta sconfitta per l'audace Ceriniola e stavolta l'avversario ha un passato in serie A e B con la mission di ritornarci. Il Pescara all'Adriatico vince nettamente contro il team giallo-blu, poco incisivo nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa. Nel corso della prima frazione per gli abruzzesi almeno 5 palle-gole, che culminano con il rigore di Crescenzi per un fallo ad opera di russo. Il forte attaccante abruzzese trasforma per l'1-0. L'audace recrimina pure la sfortuna con la traversa di D'Andrea nel corso del secondo tempo. I giallo-blu si trovano molto in difficoltà e subiscono il forte pressing del Pescara, che sigla il 2-0 con Bergani su ottima crossa di Crescenzi, l'autore del primo gol. Per l'audace Ceriniola molto da rivedere sul piano psicologico e anche schemi apparsi non proprio rispettati. Prossimo turno il 30 ottobre contro la Turris, che giocherà domenica in Bosticipo contro la formazione del Crotone.